Ora invece siamo qui pronti a massacrare vittime Guarda nonna Lederfist, incazzata grigia Che uccide Sonny Rip Sonny La psicopatica Sissi, eccola qua Siamo pronti subito ad attivare il motore della macchina Perfetto Siamo sul retro Nonno Lederfist, quando vede che non hai mangiato tutto il cibo Ok abbiamo attivato la macchina Chiudiamo la chiave Vai via dai coglioni Sacca di sangue Non hanno ancora allertato il nonno Ciudiamo la chiave Perfetto Questi sono lenti ad aprire le porte Allora il nonno è di qua Vediamo del sangue Perfetto Sì sto gioco l'ho portato perché venerdì 13 a me piaceva Poi lascia che è fallito a causa di problematiche legali Ma a me è sempre piaciuto venerdì 13 Nonostante i vari bug strani che aveva Due già stanno sopra No no Torniamo sopra Quei due Quei due sono pericolosi Leland e Connie insieme No no Assolutamente no Oh Oh Julie Ciao Julie Have one hit Have one hit Dai dai Have one hit Perfetto Perfetto Va ancora alzata la cam Porca miseria Aspetta un attimo ora la alzo Così dovrebbe andare bene Oh finalmente Ragazzi ci abbiamo messo secoli Per risolvere sta cosa dell'account Ciao Connie Oh guardala con Leland Naggia la scheggia Ti è andata male Godo È la prima volta che vinco Un incontro ravvicinato Con un survivor In genere mi piantano sempre la scheggia Nella spam E si gode Però c'è ancora Leland Da qualche parte Dove sarà andato Qua avveleniamo Secondo me Leland Sta nelle vicinanze Ecco lo sapevo raga Lo sapevo Scontato proprio Ci faccio un culo Adesso Ehi Ehi Stampe provare Lo ripariamo a stamina Sennò poi non lo posso settare Un classico Sempre one shot Di Lash Perfetto Morto Mi resta uno solo Abbiamo ammazzato i più fastidiosi Connie e Leland Restana Restana Fidiamo il nonno Qua avveleniamo Perfetto Ah ma ne ho uccisi tre io Non due Mi ero dimenticato Che avevo ammazzato Giulia all'inizio Potrei fare Quattro su quattro Speriamo Dai Non l'ho mai fatto Quattro su quattro Il mio massimo E' sempre stato Tre su quattro Stana però Sembra in gamba Non si fa spottare Mi sa che è questa Quello scantinato Lì Quella zona Che ti fa No non è qua Non è qua Il ripostiglio Qua è tutto a posto Verifichiamo Sì Tutto a posto Generatore Attivo Proviamo a fare Una tattica Stelta Magari era Qui nelle vicinanze Si è nascosta Ah giusto Questa non è Pumpa di benzina Quindi non possiamo Trovarlo Quel ripostiglio Hai ragione Dove diavolo è Anna Eccola Quattro su quattro Let's go Cronox Il massacratore Che strage Ragazzi GG Ti beggo pure Ho sbloccato L'archivement Quattro vittime In un solo match Tanta roba GG Disintegrati 2570 punti Ah ma ci avevamo Pure il cuoco Che era crashato Quindi eravamo in due GG Due contro quattro E li ho ammazzati tutti Assoluti Asnoti